bentornati dopo un sacco di tempo mio dio allora oggi è uscita l'espansione di airstone e quindi andiamo a sbustare le 50 buste io voglio fare una scommessa condesa ma siccome un poveraccio non si può fare e nulla quindi niente scommessa la faremo con la prossima espansione in cui vuoi scegliere tra punizione per lui io ero pronto allora non conosco per niente le carte nuove e ignorerò le carte comuni ma la media di leggendari trovate dalle persone è veramente bassa anche se a meno di quelle che conosco io ho interpellato ho già trovato una rara foil meno male le bustine mi piacciono parecchio sono molto carine abbiamo detto non mi fermo sulle carte normali poi mi guardo da solo il loro modo di sbustare è un tipo quella l'epica del prete che appena passata è un ma in control ma ha effetto ritardato non è male ha messo un effetto ritardato anche sul sul prete quindi va bene abbiamo 50 buste quindi in teoria ogni 15 potrebbe trovare una leggendaria vediamo se il tuo leggendario culo esiste veramente le epiche ne sto trovando i tuoi effetti finituno si attivano due volte non male non male qualche combo interessato quella del druido questa è una che mi piace molto perché il suo potere eroe praticamente ti fa scegliere tra avere tre attacco o 3 di armatura e poi il suo ingresso ti può fare se avere di veleno dei taunt se non mi ricordo male quindi è carina carina comunque le modifiche che hanno fatto queste leggendarie che ha messo di classe sono interessanti perché portano il il meta un po più sul controllo vedere se riuscirà se la gente riuscirà a fare dei mazzi tali o no comunque per ora rientriamo 50 buste sono tre leggendarie ok sono fatto complimenti e bustine sono diventate scoperte sciape tristezza bello lo scuola disegni sono molto interessanti ho scelto un periodo poco caldo per far uscire una spazio di ghiaccio allora che durare una epica la epica andiamo a vedere del paladino se non sbaglio tiene più un attacco dopo che un tuo servitore ha perso scudo divino c'è già ho visto anche l'altra leggendaria di classe il paladino che la stessa meccanica e quindi un po di meccaniche nuove tra l'altro hanno dato un nome a legame a furto vitale che condotto ero personaggio tipo questo qua furto vitale quando un tuo qualcosa infligge danno ti cura queste figale fornisce furto vitale la tua arma da rogue però mi sembra aver dato 5 danni ai tuoi servitori non ci ho fatto caso bello scuola siamo a metà ragazzi a metà una sola leggendaria una stessa bustina di cui una foil bello sto disegno questo punto vitale bello bella la epica beh dimmi il numero secondo te quando esce la leggendaria che bustina una foida questa è la stessa arma di prima allora segreto del lantern non ci ho fatto caso quando un tuo servitore viene attaccato evoca un cobra imperatore con 2-3 con veleno che non è male dopodiché alla fine del turn c'è un danno i servitori nemici anche questo non è male per essere una rumore stiamo sforando eh abbiamo sforato qui c'è due leggendari ma hai contato io ho detto 8 ma hai col giro no no stiamo sforando ai 30 di ogni 15 sarà qualche bustino davvero prossimo deve essere intorno all'altro 12 che brutte buste ragazzi che brutte buste le magie costano due in più generico a tutti che brutta busta che è questa 5-5 è più costa 6 dipende di chi è maco si vabbè magari dovuto un po' qui in arena se non ti ho sforzato questa è la quattoresesima questa è quella con la leggendaria questa c'è la leggendaria dove? dove? qui? no qui? no qui? qui? dai 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 nell'ottava busta leggendaria guarda te guarda te ha proprio nella tia detto 8 ma è un'ottava ma è un'ottava ma è un'ottava nell'ottava nell'ottava busta nell'ottava mamma che tristezza però c'è porca traia tristi 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 bello c'ho 8000 vermi le scienze tanti dust è felice c'è c'è un bellino un brighetto dorato non si può sentire non si può proprio sentire non si può proprio sentire si hanno provato rimuove una carta alla cima del mazzo dell'avversario eh carino due tre costa due carino eccola wow no 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 niente che cosa ne dovremmo adoperarci una legenda anche 50 minuti si anche a me tutti felici tristezza che tristezza ragazzi che tristezza mamma mia un sacco di foil fuorisce rantolo di morte torno in vita con uno di salute carino bravo provocazione furto vitale e rantolo di morte distrugge un servitore nemico casuale ma questa è bella in arena l'ultimo 3 mamma mia che tristezza questo squalorso lo squalorso è pieno 50 buste 1 ragazzi 50 buste 1 leggendaria una tristezza così mamma mia ormai ma tu non ti devi arrendere oh 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 l'ultimo agustino leggendaria grazie quello è il mago come ogni volta che si piega per raccogliere qualcosa ok quindi abbiamo beccato 2 leggendaria di classe che trasformano il proprio eroe e andiamo a vedere probabilmente noi ripartiamo dal 20 a rifare i video quindi ci rivediamo dal 20 per fare si a twitch youtube sti cazzi e mazzi con dei mazzi nuovi volendo se ci sono le variale i boss più difficili e nulla ciao ragazzi è stato un piacere buon ferragosto grazie 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 grazie